No, 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 no Stanno giocando, lasciateli giocare E' stato lei che ha fatto la dichiarazione E' stato lei che ha segnalato Voi non potete tenere i bambini in queste condizioni E voi E' un atteggiamento che è sicuro per loro E' una famiglia senza lavoro e non è sicura Ma scusami, chi ha messo noi dentro questo condizioni? Chi ha messo noi? Se fosse certo, è stata in italiano Come sono sicuri a casa? Come c'è la mamma, c'è sempre i bambini Sennò cosa succede se i bambini giocano qua? Non è divertente neanche di là Mi porto in postura? Mi rischio di tenerlo a casa piuttosto di portarlo qua Mi porto in postura i bambini si giocano qua Perché non andate a chiedere a loro Che cosa siete facendo? Perché sono polizia fuori? Perché sono ragazzi fuori questi? Perché? Andate a chiedere a loro Perché i genitori sono fuori? E quello è il discorso? Perché i genitori sono fuori? Andate a chiedere questi commissari di barca Sistemate quella faccenda Così siamo tutti tranquilli Andate a chiedere a queste discorso Solo per sistemare Quale è sistemare? Quale è sistemare? Giugare qua avanti Giugare il guarda avanti